Buonasera a tutti e benvenuti sul nostro canale quello dei dormienti di Efeso io sono Ilaria e per chi non ci conoscesse già faccio parte di un gruppo di ricercatori indipendenti appunto i dormienti di Efeso che ehm si occupano appunto di di ricercare eh nell'ambito della storia e e che non smettono mai di farsi domande. Anche questa sera siamo siamo qui in compagnia di Laura Fezzia e che non è ciao a tutti. Poi ovviamente ci sono sempre Serena Massimiliano e questa puntata è davvero importante perché è la decima puntata di una serie eh sulla storia della chiesa che abbiamo iniziato a trattare eh a novembre del duemilaventidue quindi è più di un anno che ci occupiamo di questo tema e abbiamo attraversato con l'aiuto di Laura ben venti secoli di storia quindi diciamo che è stato un un bel viaggio un viaggio abbastanza lungo e molto molto interessante e abbiamo visto comunque che insomma eh abbiamo sicuramente suscitato l'interesse e la curiosità di tante persone e speriamo di continuare a suscitarla e prima di di iniziare volevo prendere qualche minuto intanto per ringraziare ovviamente chi ci segue eh sia dall'inizio chi si è giunto insomma nel corso del eh del tempo o chi chi ci sostiene e eh vi ricordo che se volete continuare a sostenerci potete cliccare sul cattino a forma fuoricino che si trova nell'info box scritto grazie e darci il sostegno per eh diciamo finanziare un pochettino la nostra attività di ricerca dato che ovviamente non è la nostra attività principale nella vita anche se sarebbe bello e eh per chi è interessato magari ad avere qualche agevolazione qualche benefit in più eh c'è la possibilità di abbonarsi e avere per esempio a disposizione anche le slide del dei nostri eh delle nostre ricerche come quelle che vedete durante durante le live direi che dopo insomma questa piccola premessa ehm promozionale ecco come sempre ehm voglio chiedere a Laura di parlarci di scegliere di parlarci di uno dei suoi libri diciamo nel corso del tempo le abbiamo chiesto di raccontarci un pochettino i vari libri che sono diversi che trattano comunque sono collegati agli argomenti eh della serie ma questa sera invece di chiedere io un titolo specifico chiedo a Laura ti raccontarci di un libro che che magari insomma sente più uno più libri eh uno più libri ovviamente che trova sono sette i libri di questa serie quindi esatto allora dato l'argomento che andiamo ad affrontare questa sera eh voglio parlare eh di chiesa criminale e dell'inganno della croce allora in iniziamo con chiesa criminale insomma lo dice già il titolo questo libro ripercorre dettagliatamente e come sempre su base rigorosamente storica eh duemila e passa anni di cristianesimo eh ovvero sia un voglio chiamarla tradizione spirituale anche se non lo è ma non importa eh che almeno ufficialmente non stando eh alle scritture ufficiali inizia con il sacrificio cruento eh di un uomo e continua un po' sulla stessa falsariga eh lasciando dietro di sé quello che è il sottotitolo del libro ovvero una scia di sangue in nome di Dio lunga duemila anni e quando qualcuno rivendica spesso con un'aria così abbastanza supponente eh il fatto che le nostre radici sono eh cristiane io ho una risposta per forza perché eh chiunque non si sottomettesse rifiutasse il battesimo o comunque non accettasse di riconoscere eh di adottare addirittura il cristianesimo come unica religione veniva semplicemente fatto fuori mh che si trattasse di singoli individui o addirittura di interi gruppi anche numerosi e voglio fare un esempio forse tra i meno noti perché è facile parlare di catari valdesi no? Eh però c'è un piccolo esempio nel 1782 Carlo Magno paladino del sacro romano impero eh mandò a morte a Verdun quattromila cinquecenti individui che si erano semplicemente ribellati alla cristianizzazione della bassa Sassonia così no? Per gradire e quindi questo è diventato veramente il modus operandi eh di Santa Romana Chiesa non ti converti allora ti faccio fuori eh l'inganno della croce invece racconta sempre e lo ribadisco perché è importante eh su base eh rigorosamente storica come il cristianesimo è stato costruito a tavolino attraverso vari passaggi Paolo di Tarso, i Vangeli, Nicea e tutti gli altri concili di cui parleremo anche questa sera eh ai massacri appunto in nome di Dio eh imponendo dogmi eh utilizzando e facendo valere all'occorrenza falsi documenti il più celebre è la donazione di Costantino, la falsa donazione di Costantino, ma non è l'unico per esempio c'è la lettera di Publio Lentulo che è un falso di epoca medievale si suppone del 1400 grosso modo in cui si parla diffusamente di Gesù Cristo lo dandone la sapienza, i miracoli e tutta l'ambaradaga insomma e descrivendone addirittura l'aspetto fisico che stranamente coincide con l'iconografia no? Che iniziò eh circolare nel medioevo eh poi la la chiesa ricorsa interpolazioni eh di scritti antichi posso citare il celebre eh testimonio Flavianum o addirittura alcune parti degli stessi Vangeli eh insomma inventata di tutto e di più pur di trionfare naturalmente e di andata a pescare negli apocrifi cioè quei Vangeli quelle scritture messe al bando e ritenute fasulle eh anicea quelle parti mancanti eh nei Vangeli ufficiali nei Vangeli canonici che potessero servire alla costruzione di tutti i protagonisti della fabula Cristi sempre comunque scopiazzando altre tradizioni. Quest'ultimo particolare è eh raccontato dettagliatamente in un altro libro che si intitola Il Santo Plagio di cui magari parleremo un'altra volta. Questi sono i due libri più uno che che posso proporre questa sera. Bene. Grazie Laura sempre per la tua sintesi su questi libri che ovviamente vi consigliamo di leggere e lascio la parola a Massimiliano per la citazione di rito. Ok ma gente ha un rito quindi fare le citazioni ne faremo ne faremo ne facciamo queste ultime. Allora intanto ringrazio anche io tutti quanti quelli che sono intervenuti e ci hanno seguito. Ehm questo è l'apice della nostra cioè diciamo il punto finale del nostro viaggio che abbiamo iniziato circa come ha detto Ilaria nel novembre duemilaventidue e e su cui si convoglia mh non non una nostra storia vaga ma stiamo parlando oggi parliamo veramente di storia dell'altro giorno quindi stiamo parlando di una storia recentissima e abbiamo fatto una piccola ricerca per aggregare tutto quanto Laura soprattutto ha fatto tutto quanto in modo tale da poter rendere veramente chiara e spiegare bene come funziona il tutto questo discorso che riguarda il non solo il concilio Vaticano II ma tutto quello che c'è dopo ed è collegato al concilio Vaticano II è quello che a noi ci interessa. Le citazioni di questa di questa sera ne sono prese da Emile Zola e da Voltaire che per chi conosce la la loro posizione teologica però secondo me calzava bene per questo che dobbiamo affrontare cioè Zola dice la civiltà non raggiungerà la perfezione finché l'ultima pietra dell'ultima chiesa non sarà caduta sull'ultimo prete questo ovviamente è inteso come non tutti i c'è anche quello che vogliono dire che siamo contro i predi o contro la chiesa noi quello che diciamo è che è la struttura che va rivalutata in un'altra ottica e Voltaire Voltaire dice un ecclesiastico è uno che si sente chiamato a vivere senza lavorare a spese dei disgraziati che lavorano per vivere. Detto questo. Perfetto. Iniziamo abbiamo abbiamo apriamo le danze e Serena è tutta siamo tutti pronti. Tutti pronti. Innanzitutto ciao Laura. Ciao. Allora un grazie a tutti quelli che ci stanno già seguendo grazie a quelli che ci seguiranno anche poi in differita quindi prima di partire visto dobbiamo parlare di concili di papi quelli più vicini a noi insomma partiamo con con chiarire che cos'è un concilio. Ok allora secondo la definizione ufficiale un concilio è la donanza di vescovi della chiesa cattolica che si riuniscono al fine di esaminare discutere questioni dogmatiche e religiose di grande importanza e io aggiungo anche di normative perché spesso i concili sono stati indetti soltanto per mettere un po' di chiarezza nelle norme che regolavano la chiesa. Passiamo allora al concilio di ecumenismo che cosa significa ed è un concetto che nel tempo è risultato piuttosto elastico. Ecumene vuol dire grosso modo mondo abitato quindi il concilio ecumenico indica l'assemblea universale di tutti i vescovi cristiani riuniti per discutere e decidere su argomenti di fede e appunto come dicevo prima di norme che poi verranno per tutta la chiesa cioè ciò che decide un concilio vale poi per tutta la chiesa. In molti testi cattolici per esempio c'è molta confusione su questo argomento perché per esempio in molti testi cattolici viene indicato come ecumenico l'ho letto più volte allora una volta potevo pensare un errore più volte no il concilio di Gerusalemme detto anche concilio apostolico che secondo gli atti degli apostoli e già la fonte dovrebbe dire molto fu una riunione delle cosiddette colonne della chiesa ossia Pietro Giovanni e Giacomo che avrebbe avuto luogo intorno al 49 ma questa è una delle tante invenzioni di Paolo per il semplice motivo che Pietro Giovanni e Giacomo nemmeno sapevano cosa fosse il cristianesimo questo bisogna continuare a ribadirlo nei primi secoli di vita della chiesa cristiana quella nata a Nicea non esistevano norme particolari per definire ecumenico un concilio il problema si fa importante solo più tardi quando sinodi oppure concili locali più o meno locali iniziano abusivamente quindi per darsi un lustro particolare a definirsi ecumenici ossia il mondo siamo noi tutti gli altri possono accomodarsi all'uscita questo è il concetto no? a rendere necessaria una chiara normativa furono vi furono le scintille tra la chiesa occidentale di Roma e la chiesa orientale di Costantinopoli che per giocare che aveva il pastorale più lungo insomma iniziarono a diversificare le loro norme per esempio una è la data della Pasqua ma è una delle diatribe no diatribe come volete che sorsero tra le due chiese e poi questione anche importante sul primato papale e sulla maggiore importanza dell'una o dell'altra sede apostolica la questione viene risolta sono state risolte un paio importanti di questioni durante il secondo concilio di Nicea 787 che per la prima volta stabilisce i criteri come cita dei concili però sul Nicea 2 ci torneremo poi in seguito no perché infatti perché noi conosciamo forse quello più vicino a noi è il Vaticano secondo come tipo di concilio mi pare come tipo ordine temporale però tu ne hai già nominati degli altri quindi ce ne sono stati diversi di più 21 in totale concili ecumene ci sono stati 21 possiamo andarli a vedere anche se così alcuni proprio soltanto citarli perché non sono molto importanti da un punto di vista storico ma non molto importanti ai fini di quello di cui vogliamo parlare stasera altrimenti faremo solo una puntata sui concili se dovessimo andare a vederli tutti nel dettaglio perché no è un'idea si potrebbe pensare allora il primo concilio ecumenico senz'altro quello di Nicea 325 diciamo ufficialmente convocato per condannare l'eresia di Ario Ario sosteneva come soltanto il padre potesse considerarsi veramente Dio non generato e non creato e negava la piena natura divina di Cristo che considerava un po di serie B rispetto a Dio padre ma queste sono le solite questioni di lana caprina che devono nascondere altre cose perché comunque un'eresia andava in qualche modo condannata però al di là di tutte queste questioni di lana caprina la vera importanza del concilio di Nicea sta nel fatto che possiamo considerarlo il punto zero della chiesa cristiana nasce a Nicea nasce l'istituzione chiesa cristiana e nasce con la sua ortodossia tutti i suoi bravi dogmi al di fuori dei quali si veniva considerati eretici con tutte le conseguenze che ne derivarono e che sarebbero continuate nel tempo le regole tassative per essere considerati i buoni cristiani in seno tra le calde braccia della chiesa sono state riassunte nel credo o simbolo di Nicea poi c'è il concilio di costa il primo concilio di costantinopoli del 381 siamo in età teodosiana difatti viene convocato da teodosio per gli imperatori che convocavano i concili quindi successivo all'edito di tessalonica e alla messa al bando di tutte le altre religioni al di fuori del cristianesimo durante il primo concilio di costantinopoli il credo niceno diventa niceno costantinopolitano con la dichiarazione della divinità dello spirito santo va bene e così abbiamo formato la trimurti cristiana non la trinità cristiana segue poi come importanza 431 il concilio di efeso maria che per secoli nessuno aveva considerato più di tanto viene dichiarata madre di dio e con questo e non so neanche con quanto gradimento la neonata chiesa cristiana si procura la sua personale dea madre con cui sostituire quella pagana e sostituendo il culto soprattutto che era uno anzi il più antico che esistesse poi c'è il concilio di calcedonia che viene detto per condannare l'eresia monofisista va bene poi c'è il secondo concilio di costantinopoli siamo nel 533 l'obiettivo era quello di riconciliare cristiani copti dell'egitto che erano sostenitori del monofisismo di cui sopra con la chiesa ufficiale per raggiungere questo obiettivo giustiniano perché lui che lo che lo convoca ribadisce la condanna sugli scritti di tre autori particolarmente poco graditi ai copti che sono teodoro di un nome difficilissimo mopsuestia teodoreto di ciro e il vescovo ibba di edessa ma non è questo che importa perché la vera pièce de résistance del secondo concilio di costantinopoli è la pronuncia del secondo dogma mariano quello della perpetua verginità di maria tanto per spararla un po grosso insomma e la cosa notevole è che soddisfatti questi due requisiti fondamentali di quel personaggio femminile che per pure ragioni di opportunità la chiesa era stata costretta a tirarsi in casa l'istituzione non si interesserà più di questo personaggio per i successivi 1321 anni dopodiché sarà più nono a riprendere in mano situazione diciamo poi c'è ancora un terzo concilio di costantinopoli con un'altra questione di lana caprina sulla divinità e sulla natura di cristo una cosa abbastanza complicata oltretutto una questione decisamente in pole position della hip parade delle questione di lana caprina insomma poi c'è il secondo concilio di micea quello che ho citato poco fa importante per un particolare nonostante il dio vetero testamentario avesse vietato di riprodurre le immagini sacre il culto delle icone era fiorente e soprattutto redditizio ma altrettanto aspre e spesso addirittura sanguinose erano le guerre tra i fautori di questa usanza e gli iconoclasti il secondo concilio di inicea taglia la testa al toro stabilendo la differenza tra adorazione che deve essere riservata solo a dio e venerazione che può essere rivolta ai santi santi madonna insomma e compagnia cantante ma non all'oggetto in sé piuttosto alla santità del soggetto rappresentato poi c'è un altro concilio un altro un quarto concilio di costantinopoli anche qui per questioni che si inquadrano nella rivalità tra chiesa d'oriente chiesa d'occidente la condanna di un certo fozio patriarca di costantinopoli va bene poi saltiamo proprio a pie pari il lateranese primo secondo e terzo altrimenti non finiamo più e andiamo al lateranese quarto siamo nel 1215 durante il quarto concilio lateranese viene ribadita la fede cattolica in un dio eterno onnipotente unico in tre persone con sostanziali padre figlio spirito santo il padre non deriva da alcuno il figlio dal solo padre lo spirito santo da entrambi va bene così non cerchiamo di capire ed è durante il lateranese quarto che viene introdotta l'espressione semplicissima transustanziazione per indicare e definire il mistero eucaristico vengono condannate come eretiche un po' di dottrine assortite tra le quali quella dei catari e quella dei valdesi la repressione dell'eresia affidata ai vescovi e ai tribunali dell'inquisizione che dipendono dai vescovi viene elevata a legge generale della chiesa il lateranese quarto emana numerosissime altre disposizioni tra le quali ne spicca uno molto interessante e cioè quella che proibisce al potere secolare assi al clero sempre di soldi finiscono per parlare così infine il concilio vieta definitivamente il matrimonio agli ecclesiastici cioè impone il celibato ci sono ancora poi due concili di lione primo e secondo ma li saltiamo e andiamo a vienna che viene non vienna perché in molti testi si trova anche vienna ma è avvenuto in una città francese insomma che viene che è importante soprattutto per una una questione e cioè quello che sopprime l'ordine dei templari con tutte le conseguenze che deriveranno per i pauperes con militones Christi templico e salomonis così si chiamavano per esteso i templari nel corso di questo concilio verrà anche indetta una nona crociata si inizierà a raccogliere denaro fondi per realizzare questa crociata risultata che però non partirà mai mentre i relativi soldi finiranno per essere equamente divisi tra la chiesa e filippo il bello così poi ci sono anche delle norme di parziale riforma della chiesa insomma poi ci sono altri tre concili che nominerò solo che sono quelli di costanza di basilea ferrara e firenze e il quinto concilio lateranese e arriviamo al concilio di trento 30 tra interruzione riprese si svolge tra il 1545 il 1563 ed è il concilio indetto principalmente per ribadire i principi della fede cattolica che avevano subito un duro colpo dalla riforma luterana al termine di 18 anni di lavori portati avanti un po a singhiozzo tra alterne vicende un po per una volta per una per viene interrotto per una pestilenza altre volte per delle guerre in atto vengono approvati dei decreti a trento vengono approvati dei decreti dogmatici comunione sotto le due specie il carattere sacrificale della messa norme sul sacramento dell'ordine del matrimonio viene ribadita la dottrina del purgatorio viene ribadita la dottrina sulla venerazione dei santi sulle indulgenze che era stato quello che aveva fatto scattare la l'arrabbiatura diciamo di utero poi sugli ordini religiosi su norme di comportamento diciamo per i religiosi e poi ci sono dei decreti disciplinari sul lungo l'uso della lingua latina nelle celebrazioni con l'obbligo però della loro spiegazione in volte a involgare e la famosa messa tridentina che poi verrà messa così un po da parte nel vaticano secondo poi ci sono norme sull'obbligo di residenza degli vescovi sulla creazione dei seminari per la formazione del clero e altri di riforma generale tutte le decisioni del concilio di trento saranno poi confermate da pio quarto con la bolla benedictus deus dopo trento nessun concilio ecumenico viene più indetto finché pio nono alzandosi un bel mattino non sente il bisogno di dare una lustrata al triregno che insomma traballava traballava un po e arriviamo quindi al vaticano primo concilio vaticano primo 1870 ci sono anche qui solite questioni di lana caprina buttate lì un po alla rinfusa per dare qualche pennellata di spiritualità alle decisioni dell'assemblea ma ciò che conta veramente del vaticano primo e soprattutto quello che importava a pio nono e la costituzione dogmatica pastore eternus votate approvate il 18 luglio 1870 che stabiliva i seguenti punti l'apostolo pietro ricevette direttamente da cristo il primato su tutta la chiesa questo primato concesso a pietro si perpetua per volere di dio nei papi di roma il primato del papa è ordinario immediato veramente episcopale e gli stessi termini sono utilizzati dalla costituzione per qualificare l'esercizio dell'autorità dei vescovi e adesso arriva il punto importante il romano pontefice quando parla ex cattedra gode di quell'infallibilità con cui il divino redentore volle fosse corredata la sua chiesa nel definire la dottrina intorno alla fede e ai costumi che era quello che importava a pio nono cioè il dogma dell'infallibilità papale il vaticano primo viene bruscamente interrotto dalla breccia di portapia il 9 ottobre roma viene annessa al regno d'italia e in questo modo finiva il potere temporale dei papi almeno apparentemente io volevo solo far notare una cosa di come in tutto questo lasso di tempo questi concili sono stati creati in un certo senso ad hoc per questione prima di tutto politiche e poi economiche cioè non c'è nessuno che si è preoccupato di non so cominciamo a parlare delle necessità spirituali dell'uomo di che cosa necessità spirituali dell'uomo devi stare dentro quello che dice la chiesa e allora sei a posto no basta se no poi per il resto ci pensiamo noi a fare brigare di spare allora io prima di passare diciamo alle parti un po più calde diciamo della della serata in questo senso e siccome stiamo mettendo tante cose mi pare all'interno diciamo di tutta questa storia e complesso e vasto esatto noi abbiamo preparato proprio delle slide apposite per chi ne avesse diciamo curiosità necessità insomma per chi le volesse guardare o meno e ci sono insomma ci sono delle slide riepelogative che mettono anche qualche focus qualche punto diciamo su quello di cui parleremo tutto qua insomma allora intanto vabbè intervengo io così in questo modo un po' a gamba tesa vabbè noi in queste ultime due abbiamo fatto sono due due incontri che sono uno di uno conseguente all'altro anche in ordine tecnologico all'interno della storia che noi andiamo a percorrere ora prima di lanciare Laura dal nella parte seconda cioè quindi da l'anenzi spieghiamo come siamo arrivati al periodo storico perché magari non tutti hanno visto il video precedente questo serve a strutturare un pochino la cosa qui abbiamo un po' sintetizzato le date proprio in maniera diretta quindi al 17 marzo 1861 viene proclamato il regno d'italia il 2 settembre 1870 Sedan viene cattolato a napolino III che garantiva una sicurezza al regno pontificio ok quindi non permetteva c'è solo una piccola correzione il regno di sardegna non il regno d'italia ancora ah sì 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 scusami il regno di sardegna ha ragione bloccava questa questa cosa il 20 settembre però 1880 a seguito della capolino napolino III avviene la presa di roma una piccola parentesi 1870 Laura prima l'ha detto è collegato all'infalibilità del papa quindi è un gioco affatto era già stata votata quando i bersaglieri sono arrivati era già stata votata era passata era passata ormai poi il 13 maggio 1871 c'è stato naturalmente lo stato e ha cercato sempre di avere di andare incontro alle necessità della chiesa che comunque parliamo sempre di un di un regno d'italia un regno di sabato e tutto quello che sia comunque cattolico quindi cristiano non voleva andare a scontrarsi ha fatto in qualsiasi ha cercato in qualsiasi modo di garantire la sicurezza della figura del papa e di tutta la struttura ecclesiastica facendo le leggi coerentiche garantivano uno stipendio al papa ma più o meno lo sappiamo che era abbastanza tosto da questo punto di vista e ha subito eh dicevi anche abbastanza incazzato esatto abbastanza in volo questa cosa è partito subito con l'ubinos che è una una bolla che dice chiaramente che il potere spirituale e quello temporale deve essere unito quindi come dire io rivolgo il mio regno che avevo prima nell'ottocento e tantaquattro poi ha pubblicato la no expendit che praticamente costringe tutti i cattolici a non partecipare alle situazioni di stato quindi vedete come pianamente questa piccola battaglia intestina e nel novecentododici però è andato via pio nono che ormai fortunatamente era saltato e il praticamente è iniziato il lavoro ha capito la chiesa che deve entrare nello stato se voleva controllare qualche cosa quindi che cosa ha fatto ha cominciato a creare delle strutture politiche che permettevano di partecipare alle persone del diciamo ecclesiastiche di partecipare alla struttura dei governi e in questa maniera è riuscita a vincere praticamente le elezioni in italia con il partito eh delle dei liberali e grazie al luesci che io mi ricordo mai come si dice sono unioni eh unione eh cattolici italiani no una cosa del genere luesci che vuol dire non mi ricordo l'altonimo comunque si erano delle piccole strutture che erano state fatte apposta dalla diciamo così dalla chiesa in cui convogliamo le persone che erano interessate a partecipare alla vita politica della nazione e siamo arrivati a ridosso della prima guerra mondiale finita la prima guerra mondiale con il trattato di Versailles e la situazione italiana sappiamo come tutta quella di tutta l'Europa che il mondo che ha partecipato alla guerra mondiale era distanguato naturalmente è venuto fuori il discorso del 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 governo dittatoriale del fascismo e da lì è iniziato il discorso della eh la marcia di avvicinamento esatto l'avvicinamento più più forte perché naturalmente Mussolini ha compreso che se voleva riuscire a raggiungere diciamo tutta quanta la popolazione che gli serviva per poter strutturare il suo governo doveva avere a che fare anche dove entrare in contatto con comunque con il papato e questo fa sì che genera il discorso dei patti lateranensi in breve i patti lateranensi sono una eh sono un accordo che è stato fatto in praticamente eh l'undici febbraio del ventinove eh in cui praticamente vengono discusse delle determinate posizioni in cui viene messa tra rapporto tra chiesa e stato tendenzialmente eh la situazione finale che possiamo dire più eclatante perché poi andremo a guardare questa noi anche stasera eh sarà la situazione in cui praticamente la chiesa avrà eh totalmente un riconoscimento come apparato statale da parte dell'Italia quindi l'Italia riconosce lo stato pontifico lo stato della chiesa e viceversa la chiesa vai dicevi qualcosa no lo stato città del Vaticano nasce lì città del Vaticano esatto mi scuso se sto correndo ma perché poi dopo no 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 perché abbiamo parlato diffusamente la volta scorsa esatto e in questa cosa ci sta il discorso che comunque a quel tempo venivano date al papa quindi per le sue cose circa eh quant'erano settecentocinquanta sì settecentocinquanta che è una cifra che praticamente ad oggi sarebbe stata una striscia spaventosa sconvolgente quindi esatto sarebbe veramente tocchiamo delle cifre altissime quindi finito a eh chiari i patti latranensi inizia la seconda guerra mondiale la seconda guerra mondiale finisce termina cade il governo fascista e quindi la chiesa a questo punto si trova davanti al dilemma ma i patti latranensi resteranno ancora o non resteranno che succede eh sì perché con la caduta con la caduta del fascismo e il referendum che fa eh dell'Italia una una repubblica in teoria i patti latranensi decadono però usciti dalla porta eh rientrano dalla finestra è anche una finestra abbastanza ampia eh ed entrano addirittura nella costituzione precisamente all'articolo 7 e quest'articolo 7 recita lo stato e la chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani i loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi e c'è poi c'è questa frasetta importante le modificazioni dei patti accettati dalle due parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale quest'ultima aggiunta è importante in quanto significa che la loro modifica può ancora oggi avvenire per legge ordinaria senza mettere mano alla costituzione e poi qui parliamo di un personaggio di cui insomma ha solo un nome un po' strano no perché suonera un po' strano a molti di un tale Roberto Lucifero dei Marchesi di Apriliano che è stato eh che vedete adesso nella nell'immagine no che è stato un politico italiano ecco vedendo l'immagine eh c'è da domandarsi se abbia curato il proprio aspetto per armonizzarlo maliziosamente con il cognome che portava insomma allora costui prima dapprima ha militato nelle fila del partito democratico italiano che non ha niente a che fare eh con l'attuale partito che porta lo stesso nome ma era una formazione di ispirazione monarchica fondata nel giugno del 44 nata dalla fusione di diversi raggruppamenti chiaramente di orientamento ultraconservatore eh si scioglie nel gennaio del 47 e i suoi esponenti migrano tutti abbandonare la politica manca a pensarci no eh migrano verso verso altri lì di Lucifero opta per il partito liberale eh di cui fu addirittura per un anno o due non mi ricordo eh segretario nazionale ecco costui è il principale responsabile del famigerato articolo settore della costituzione ok vai sì no stavo pensando che ci sono sempre internazzi politici qui in mezzo qua di spiritualità nella chiesa non se ne parla politico fa vedo vabbè ok la chiesa è la chiesa è la fede la noto è sempre stato un paradigma sì ma in in tutta questa storia come abbiamo detto prima c'è un personaggio più dodicesimo anche venerabile anche detto venerabile che di cui stavamo parlando prima allora è il papa che ha visto tutto lo scenario della della guerra poi della costituzione insomma è stato papa in un periodo abbastanza caldo per l'appunto l'arrivo della repubblica eccetera Eugenio Pacelli eh il terzo figlio dell'avvocato della Sacra Rota siamo sempre nei stessi ambienti esatto Filippo Pacelli si chiamava il padre e viene eletto al sogno al sogno petrino il 2 marzo 1939 un anno abbastanza importante per gli assetti mondiali e sceglie il nome pontificale di Pio XII eh uno dei primi atti del suo pontificato è quello di eliminare dall'index librorum proibitorum i libri di Charmar Morat che era leader di un gruppo politico antisemita e anticomunista di estrema destra cioè di action francese sempre nel 39 tanto per dire un po' di cose che ha fatto Pacelli no eh il nuovo papa eh proclama Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena patroni d'Italia e poi c'è un'altra cosetta importante nel 41 trasforma la commissione delle opere PIE che dattava addirittura dal 1887 nel famigerato istituto per le opere di religione cioè IOR per gli amici insomma eh nell'ottobre del 42 in risposta un po' tardiva secondo me eh un messaggio che gli aveva inviato sul suo Lucia dos Santos nel 40 eh Pio XII consacra il mondo al cuore immacolato di Maria ma l'interessata che non è Lucia ma la Madonna sempre addetta di suor Lucia naturalmente non è soddisfatta e lo fa sapere al papa perché lei per bocca ai suor Lucia naturalmente eh lei infatti aveva esplicitamente richiesto la consecrazione eh la consacrazione della Russia non del mondo dunque tutto da rifare non si capirà eh il motivo per cui invece approverà senza mezzi termini sempre per bocca ai suor Lucia quella fatta da Giovanni Paolo II nel 1984 del tutto simile a quella di Pacelli ma sono misteri della fede che non andiamo nemmeno in certo ehm nel 49 Pio XII che a guerra finita si è schierato senza mezzi termini a favore della democrazia cristiana ehm prenderà una decisione che susciterà un po' di scalpore a livello mondiale ovvero la scomunica ai comunisti che naturalmente mangiavano i bambini no in quel periodo l'immagine che si aveva dei comunisti eh durante il giubileo del 1950 con la bolla munificentissimus Deus proclama il quarto e ultimo dogma mariano quello dell'assunzione al cielo di Maria in anima e corpo il giorno precedente a questo avvenimento alla pronuncia del del dogma eh la proclamazione del dogma racconterà sembra al cardinale Todeschini quantomeno sarà lui che divulgherà la notizia eh di aver assistito a un evento straordinario mentre passeggiava nei giardini vaticani e cioè la danta del sole in puro stile Fatima negli anni successivi dagli archivi della famiglia Pacelli verrà fuori una specie di brogliaccio eh scritto di pugno eh da Pio XII in cui il papa descrive questo straordinario evento e il foglio che si può reperire in rete tra le altre cose se volete vederlo e zeppo di cancellature correzioni e fare proprio una sceneggiatura insomma no così eh Pacelli muore il discorso diciamo si era proprio è bellissimo da vedere proprio cancello una parola ne scrivo un'altra proprio come se scrivesse una sceneggiatura quasi Pacelli muore il 9 ottobre 1958 me lo ricordo eh tutti in lutto no naturalmente all'epoca quando moriva un papa la televisione la radio trasmettevano solo musica sacra eh e alcuni anni dopo ma neanche poi tanti intorno al primi anni diciamo intorno al 63 65 iniziano a circolare delle voci che lo accusano eh di aver mantenuto il silenzio circa lo sterminio degli ebrei eh fatto di cui era a conoscenza essendone stato informato più volte e da più fonti queste voci però chiaramente vengono messe immediatamente a tacere il 18 ottobre del 67 nove anni dopo la sua morte Paolo VI bello bello apre il processo diocesano per la causa di beatificazione e canonizzazione di Pio XII e questo solleva non solo dubbi ma anche alcune proteste soprattutto all'interno della comunità ebraica a motivo appunto del silenzio sullo sterminio degli ebrei ma li provoca queste proteste questi dubbi anche all'interno della stessa chiesa eh nel novan 1990 con decreto firmato da Papa Giovanni Paolo II eh non e nonostante tutte le proteste che c'erano state viene proclamato a servo di Dio che è il primo stadio del processo di beatificazione il 19 dicembre 2009 con un decreto firmato da Benedetto XVI che ne attesta le cosiddette virtù eroiche necessarie per essere proclamati prima beati e poi santi viene proclamato venerabile che è il secondo step nel processo di beatificazione e le comunità ebraiche hanno di nuovo un sussulto eh parlando di una scelta che addolora e riscrive la storia cala il silenzio sulla beatificazione dei pacelli e la causa si si arena da qualche parte e Bergoglio nel 2014 a tornare sull'argomento durante il viaggio di ritorno dal impero della terra santa dichiarando la causa di Pio XII è aperta però io mi sono informato ancora non c'è nessun miracolo e se non ci sono miracoli non può andare avanti allora la domanda è dove hanno scovato il miracolo che ha consentito di dichiarare beato un energumeno come Pio IX così no? E come direbbe Bob Dylan risposta non c'è o forse chi lo sa caduta nel vento sarà insomma proprio vediamo se tireranno fuori qualcosa perché di solito qualcosa salta sempre no io avevo identificato Pio IX ma chi è quello sprovveduto che si mette a prendere Pio IX per ottenere un miracolo cioè che è abbastanza relativamente recente insomma la beatificazione di Pio IX possiamo dire che il successore di Pio IX sia stato Giovanni XXIII nel 1958 quindi poco dopo insomma poco dopo la morte di Pio IX sì Angelo Roncalli patriarca di Venezia viene eletto il 28 ottobre 1958 anche questo me lo ricordo e subito scandalizza tutta la chiesa con la scelta del nome pontificale perché infatti Giovanni XXIII era stato il nome di un antipapa del quindicesimo secolo glielo fanno notare ma lui va avanti e lo sceglie lo stesso e c'è anche questa l'ha avuto lì come così notizia curiosità c'è anche un altro piccolo giallo circa la sua elezione questa notizia proverrebbe dagli archivi dell'FBI e dei secretati nel 1994 dai quali però sembra che la notizia sia stata fatta sparire in realtà nel 58 sarebbe stato eletto come papa il cardinale Siri ultraconservatore, integralista, anticomunista, anti qualsiasi cosa insomma un po' una testa dura ecco diciamo così che però in quel momento diciamo un bene successore di Pio XII diciamo in un certo senso sarebbe stato forse ancora peggio che però in quel momento sarebbe stato sgradito a molte elite di potere determinate a mantenere certi equilibri mondiali così Siri era stato costretto a rinunciare e il conclave aveva letto il Piumite Anziano Roncalli un po' come papa di passaggio per prendere tempo no? senza immaginare lo scherzetto che gli avrebbe combinato di certo Giovanni XXIII si rivela subito come il papa buono sono celebri le sue uscite dal Vaticano cosa che non era così usuale per i papi all'epoca per andare a trovare i bambini malati del bambino Gesù per esempio i poveri, gli afflitti e anche il famoso discorso della luna che molti ricorderanno ma è anche un papa che non si è tirato indietro nel momento in cui il mondo si è trovato sull'orlo di una guerra nucleare a causa della crisi di Cuba che vede contrapposti USA e URSS il 22 ottobre del 62 il presidente Kennedy annuncia la presenza di installazioni missilistiche a Cuba e l'avvicinamento all'isola di navi sovietiche con a bordo testate nucleari per l'armamento dei missi Kennedy impone il blocco navale militare a 800 miglia dall'isola ordina gli equipaggi di essere pronti a ogni eventualità ma le navi sovietiche sembrano intenzionate a forzare il blocco di fronte alla drammaticità della situazione il 25 ottobre il papa dai microfoni di Radio Vaticana rivolge a tutti gli uomini di buona volontà un messaggio di pace che in precedenza era già stato consegnato all'ambasciatore degli Stati Uniti presso la Santa Sede e ai rappresentanti dell'Unione Sovietica questo messaggio suscita, pare, susciti consenso da entrambe le parti e anche grazie penso soprattutto all'azione della diplomazia vaticana e della diplomazia italiana la crisi rientra questo è quanto si racconta in precedenza il 25 gennaio 1959 nella Basilica di San Paolo fuori le mura Giovanni XXIII aveva annunciato la volontà di indire un concilio ecumenico il secondo Vaticano dopo quello di Pio IX tra le curiosità del pontificato di Roncalli c'è un episodio raccontato da Monsignor Capovilla che era il suo, Loris Capovilla era il suo segretario è stato il suo segretario per tutto il pontificato secondo questo racconto Giovanni XXIII avrebbe incontrato un paio di esseri alieni nei giardini della villa pontificia di Castel Gandolfo e Capovilla affermò di essere stato testimone dell'incontro ve la metto lì così come viene raccontato sì sì Roncalli è anche il papa che ufficialmente nell'agosto del 59 apre la famosa busta di suor Lucia che avrebbe dovuto contenere il testo del terzo segreto di Fatima e che dopo vari via vai e peripezie varie in Portogallo era arrivata a Roma nel 55 e sepolta negli archivi del Sant'Ufficio è lui che fa tradurre il testo lo legge e decide di non divulgarne il contenuto è stato scatenando decine di teorie catastrofiste ricordo personalmente questo episodio riferito dall'unico telegiornale che c'era all'epoca che è gli allarmi che ha provocato infine c'è un particolare che ai miei occhi fa guadagnare qualche punto a Roncalli fu un acerrimo nemico di padre Pio da Pietrelcina ma questo lo vedremo magari in una delle prossime puntate esatto visto che appunto è stato lui a appunto indire il concilio Vaticano II di solito tutti quanti più o meno tutti quanti i concili devono mettere a bando qualcosa dalle eresie a appunto mettere dei punti diciamo di chiaretta su alcune cose magari ideologie della Chiesa o cose del genere questo invece fa forse qualcosa di più si può dire qualcosa di molto diverso diciamo allora il concilio Vaticano II arriva dopo quasi 90 anni da quello di Pio IX interrotto dalla breccia di Porta Pietrelcina perché forse Roncalli che vedeva un po' più lungo riteneva che la Chiesa avesse bisogno di qualcosa per svecchiarsi e adeguarsi ai tempi che certamente insomma erano mutati nel mezzo c'erano stati avvenimenti di importanza capitale come a parte i patti lateranensi e va bene ma c'erano state due guerre mondiali un orocausto l'Italia era diventata una repubblica insomma non erano più i tempi del papa re e dello stato pontificio e il Vaticano II fu il primo concilio ecumenico dopo la dissoluzione appunto dello stato pontificio e la costituzione dello stato città del Vaticano durante il concilio Vaticano II sono state realizzate numerose riforme insomma sulla liturgia per esempio che è stata semplificata è stata adottata la lingua nazionale nella liturgia in luogo del latino nelle celebrazioni e soprattutto questa è la grossa differenza rispetto ad altri concili invece di combattere le cosiddette diversità ossia le eresie il Vaticano II ha promosso il dialogo ecumenico e ha sottolineato l'importanza dell'unità cristiana invitando alla collaborazione al dialogo fraterno tra le varie confessioni cristiane è celebre l'espressione fratelli separati con cui Roncalli definì le altre chiese cristiane allargando poi questa espressione addirittura a tutte le altre religioni sono state proposte per rinnovare e riformare la struttura della chiesa incluso un maggior coinvolgimento per esempio dei laici e una maggiore responsabilità dei bescovi locali è stata così sottolineata la libertà religiosa di ogni individuo cosa che prima assolutamente anzi si ammazzava non si pensava di poter avere libertà religiosa la separazione tra chiese e stato è tutta un'altra serie insomma la chiesa è stata invitata a impegnarsi attivamente nel dialogo con la società sono state raccomandate riforme nella formazione del clero e dei laici per affrontare meglio le esigenze del mondo moderno e per promuovere una maggior partecipazione dei laici detto prima nella vita della chiesa naturalmente queste aperture hanno scatenato vivaci di sensi all'interno delle ali conservatrici della chiesa e perfino portato a qualche scisma alcuni proprio scismi di condominio e va bene ma il più celebre che ha avuto un certo successo è stato quello dell'arcivescovo cattolico francese Marcel François Lefebvre che era uno tra i più influenti tradizionalisti che si opponevano alle riforme del Vaticano II in particolar modo Lefebvre e i Lefebriani ovvero sia quelli che erano d'accordo con Monsignor Lefebvre si ribellavano alla soppressione della messa tridentina come ho già detto prima cioè quella in latino alla dottrina della collegialità episcopale all'ecumenismo di cui non volevano nemmeno sentire parlare e alla dottrina della libertà religiosa il primo novembre 1970 Monsignor Lefebvre fonda la fraternità sacerdotale San Pio X viene sospesa di Vinis nel 76 da Paolo VI e definitivamente scomunicato da Giovanni Paolo II il 30 giugno 1988 muore nel 91 personaggio interessante sì personaggine di me erano delle febriani erano abbastanza vorrei dire una cosa anche a Giugge che il concilio Vigliano II diciamo al contrario degli altri concili che come ha detto Serena puntavano principalmente a condannare qualche cosa ha cercato in tutti i modi di adattarsi diciamo che è stato un principio di adattamento molto forte per il tempo che è cambiato infatti basti pensare a livello diciamo così visivo che il concilio Vigliano II è quello che ha eliminato il concetto di diciamo celebrazione di spalle da parte del sacerdote durante la funzione e gli ammessi frontali quindi questo vuol dire che ha fatto in qualche modo ha cercato in qualche maniera di avvicinare di avvicinare esatto avvicinare quindi è stata una manovra ripetiamo sempre molto intelligente cioè non stiamo parlando di persone che non sanno quello che fanno no esatto io me le ricordo tutte queste novità no? per esempio un'altra delle cose è stato consentire consentire ai cattolici di leggere l'Antico Testamento senza la supervisione di qualcuno esatto l'ho già raccontato molte volte andavo a scuola del suore all'epoca e ci è stato richiesto di portare una Bibbia perché allora per Bibbia si intendeva solo l'Antico Testamento poi Bibbia vuol dire libro insomma poi l'espressione è stata allargata tutte le scritture mia madre ha telefonato a scuola per essere sicura che fosse vero perché la Bibbia cioè l'Antico Testamento era il libro dei protestanti prima secondo me anche l'abolizione dell'index dei libri proibiti è uscito un po' da quel era dopo però sì è dopo nel 1976 però secondo me anche quello è un po' uscito da questo concetto che loro volevano di ammorbidire perché ormai la gente non era più così ignorante un po' di apertura sì esatto l'apertura che gli doveva servire però in realtà non l'index in senso stretto però la censura su tanti libri è rimasta ancora Ratzinger cioè c'era storie su tanti libri però hanno allentato un po' la presa perché non si trovano più davanti le stesse libri eh sì no diciamo che io credo che si possa dire che a un certo punto hanno dovuto concedere qualcosa per poter restare sulla piazza in un certo senso bisogna che tutto cambia perché tutto resti uguale eh esatto cioè erano usciti troppo fuori dai giochi con tutto questo cambiamento quindi dovevano rimettersi in partita in qualche modo sì ma erano ancora i tempi del paparee del sillabo di Pio IX eh eravamo ancora quei livelli lì torno a dire è storia che io ricordo sì sì questo voglio dire una cosa questo è comunque il fatto di sapersi sempre in qualche modo rinnovare al momento giusto con calma con calma però è una cosa che la chiesa ha fatto sempre però nel corso proprio dei secoli e credo sia stato o spesso no apparentemente a volte però le volte in cui l'ha fatto l'ha fatto probabilmente nei momenti giusti ed è stato credo anche uno dei dei motivi per cui è riuscita ad andare sempre avanti per me il punto di forza per cui ha continuato la chiesa ai tempi biblici proprio per i rinnovamenti per recepire le novità non dimentichiamo tante encicliche per esempio quella di Pio X mi pare un Pio X sulla la Pascenti Domenici Gregis no? che vietava addirittura la cioè ha messo un freno a tutta una serie di che condannavi il modernismo no? sì sì quello sì e poi arriveremo Paolo VI vediamo un'altra un'altra di queste belle aperture esatto quelle del Vaticano II per esempio riguardo alla liturgia sono state aperture reali su altre cose le aperture sono solo state parole sì sicuramente questione di morale per esempio di morale no? io le ricordo le messe beat che venivano dette con i complessi che allora si chiamavano così non band i complessi dei ragazzi in chiesa con le chitarre le batterie eccetera quelle sono state cose molto folcloristiche e andavo perfino a messa io no? perché era una cosa divertente all'oratorio dei salesiani no? facevano queste messe con tutti i benpensanti che passavano inorriditi cioè queste cose sono state fatte cioè queste cose sono state fatte la messa in italiano è stata attuata girare il prete verso i fedeli è stato fatto in questioni di costume di morale sono andati molto piano appunto hanno concesso qualcosa appunto come dicevamo hanno concesso qualcosa ma soprattutto cose molto visibili sì quello che potrebbe essere un po' maggiormente forse direi di cominciare con i fogli d'artificio secondo me a questo punto sì sì arriviamo praticamente da qui da questo punto qui arriviamo poi all'84 dove c'è il 1984 dove c'è quello che viene chiamato il concordato bis mi pare una cosa del genere l'accordo di Villa Madama Villa Madama che è un accordo politico che viene stipulato il 18 febbraio 19… perché non l'11? cioè si sono persi questo caso il 18 febbraio 1984 fra la Santa Sede e la Repubblica Italiana allo scopo di modificare consensualmente i contenuti del concordato sottoscritto nel 1929 fra la Santa Sede e il Regno d'Italia che era comunque una legge fascista come si diceva fascista è stato poi ratificato questo accordo con la legge 121 del 25 marzo 1985 la Costituzione del 48 all'articolo 7 aveva riconosciuto aveva inglobato cioè aveva infilato nella Costituzione i patti lateranensi ma il quadro politico del secondo dopoguerra e le trasformazioni che avevano interessato la società dell'Italia repubblicana insieme alle aperture del Vaticano secondo avevano in qualche modo dato avvio a nuovi negoziati tra la Santa Sede e l'Italia in particolare se nella Costituzione del Regno di Sardegna scusate del Regno d'Italia che era lo Statuto Albertino pur con modifiche per carità attuate nel tempo però era ancora lo Statuto Albertino era citato il cattolicesimo come religione di Stato e qui al Museo del Risorgimento c'è una copia dello Statuto Albertino è il primo articolo dello Statuto Albertino quello cattolicesimo e religione di Stato nell'Italia repubblicana questa condizione era venuta meno e soprattutto erano venuti meno quegli aiuti di Stato alla religione cattolica espressamente vietati nel nuovo ordinamento i negoziati giungono al termine nel 1984 con la stipola presso Villa Madama ma di un testo di revisione del Concordato del 29 che viene sottoscritto dal segretario di Stato Vaticano Agostino Casaroli e dal presidente del Consiglio Italiano Bettino Craxi i punti salienti sono tanti del Concordato ce ne sono alcuni molto importanti alcuni se volete magari abbiamo una lista però ce n'è uno che fa abbastanza il botto qual è? l'otto per mille, il cinque per mille, il due per mille sì aspetta, aspetta, aspetta Laura un momento, aspetta Laura rallento il colpo sì, quello che fa il botto però ricordiamoci sempre che ci sta di mezzo l'immunità e i privilegi delle figure ecclesiastiche e voglio dire che loro sono e rimangono figure privilegiate gli edifici di culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati demoliti, occupati da forza pubblica se non sotto urgente necessità che verrà parlata da loro qua si ha la gestione anche della parità tra scuola privata e scuola cattolica e poi vedremo sia scuola privata, scusate, cattolica e scuola pubblica e questo è pesantissima come cosa certo gli effetti civili del vincolo del matrimonio celebrato in forma canonica pure questa è una cosa particolare il matrimonio concordatario esatto l'assistenza spirituale è una cosa normale no, l'assistenza spirituale è una cosa normale e un bel niente è normale perché vuol dire capitano i militari carcerari ospedalieri che paghiamo noi esatto però c'era già prima anche in parte questo sì ma non è stato messo chiarificato è stato messo era una convenzione prima non era una legge adesso è stato scritto un'altra cosa è e quindi da questo poi nasce il discorso che la chiesa giustamente come le parti da Terenzi che diceva Serena c'è tutto il discorso dei soldi che ovviamente la chiesa deve rincamerare e come lo fa? ma allora intanto prima vorrei dire una cosa che molti di questi punti hanno un significato preciso e se non lo ebbero subito lo acquisirono nel tempo cioè lo Stato si impegnava in qualche modo a cacciare dei soldi pubblici a favore delle attività religiose faccio un solo esempio il finanziamento alle scuole private non viene detto cattoliche viene detto nella Costituzione viene detto scuole private no? gli accordi prevedevano l'istituzione di scuole e la parificazione di queste scuole alle scuole pubbliche ma non parlavano non parlavano gli accordi di Villa Madama di finanziamenti statali che anzi erano espressamente vietati dall'articolo 33 della Costituzione che dice ancora oggi enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato benissimo però potete andare a guardare perché è una notizia disponibile nel novembre del 2022 quando abbiamo cominciato a trasmettere insomma lo Stato aveva stanziato a favore delle scuole private private in generale ma per la maggior parte chiaramente confessionali cattoliche la folle cifra di 620 milioni di euro alla faccia dell'articolo 33 della Costituzione 620 milioni di euro soldi di tutti noi e adesso possiamo andare al botto andiamo al botto andiamo al botto come stavo dicendo 8 per 1000 5 per 1000 2 per 1000 allora intanto c'è una confusione pazzesca su questo argomento e questo perché nessuna delle parti è interessata a chiarirlo e il meccanismo è un quanto di più fumoso esista allora l'otto per 1000 è la quota d'imposta sui redditi dell'IRPEF che lo Stato italiano distribuisce in base alle scelte effettuate nelle dichiarazioni dei redditi e le distribuisce fra se stesso a volontà del firmatario e le confessioni religiose che ne abbiano i requisiti e quindi entrano nell'elenco degli eventi di diritto attualmente sono 12 mi pare la norma stabilisce o almeno stabilirebbe gli ambiti nei quali i soggetti beneficiari dell'otto per mille possono impiegare i fondi ricevuti nonché il meccanismo di calcolo di questa quota tutte parole che sono rimaste sulla carta comunque i contribuenti non sono tenuti a esercitare obbligatoriamente la scelta possono anche lasciare la casella vuota per dire ma anche l'otto per mille di coloro che non hanno effettuato la scelta che vengono chiamate quote inespresse il totale viene ripartito tra i soggetti beneficiari in proporzione alle scelte espresse quindi chi ha più scelte ne prende di più percentualmente così la chiesa intasca su otto per mille e la maggior percentuale delle quote inespresse questo è il meccanismo sembra che nel 2014 la Corte dei Conti abbia rilevato che il gettito dell'otto per mille è una delle poche cose in costante crescita ma c'è un'altra statistica del 2016-2018 non ricordo che direbbe come questo dato sia in controtendenza e sarebbe proprio il caso di dire volesse il cielo così l'otto per mille non va confuso col cinque per mille il cinque per mille è destinato a organizzazione di volontariato associazione di promozione sociale onus cooperative sociali fondazioni e associazioni riconosciute molte delle quali agiscono negli ambiti delle onus peccato che cioè si del caso che moltissimi di questi soggetti siano ancora di matrice cattolica così la chiesa se ne barba un'altra fettina ma la cosa importante e a quanto pare difficile da far capire è che e lo ripeto per l'ennesima volta dopo averlo già detto non so quante nell'otto per mille ci sono solo 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 confessioni religiose o lo stato che a sua volta ha tutta una serie di possibilità ma non tanto non le pubblicizza quindi nessuno le conosce insomma poi esiste un due per mille i cui destinatari sono i partiti politici che nemmeno commento insomma negli altri paesi non funziona così negli altri paesi europei soprattutto in Svizzera e in Germania si viene tassati direttamente solo se ci si dichiara membro registrato di un'istituzione religiosa riconosciuta altrimenti ci si tiene i propri soldi insomma ma se la faccenda finisse qui andrebbe già di lusso facendo finta di niente lo stato tira dietro la chiesa cattolica qualcosa come 7 8 miliardi di soldi pubblici extra 8 per mille in forma diretta e indiretta per la forma diretta c'è un lungo elenco di agevolazioni esenzioni e sborsi che potete trovare facilmente in rete io ne ho stampate 47 pagine una volta di queste di queste lingue alcune fanno davvero venire o fanno ridere o fanno venire nervoso come il 50 per cento del canone Rai applicati a istituti religiosi parrocchi eccetera poi ci sono per esempio nelle forme dirette di sovvenzione negli stipendi e relativi o nei contributivi di cappellani ospedalieri carcerari e militari o degli insegnanti di religione cattolica ci sono i finanziamenti ma sto andando così un po' a caso i finanziamenti ai cosiddetti grandi eventi della chiesa nel giubileo del 2025 sono stati stanziati già stati stanziati dei soldi pubblici e ce ne sono molti altri a quelli statali vanno poi aggiunti quelli regionali e il conto va su tra quelli indirette c'è la celebre esenzione del versamento dell'Imu che viene applicata agli istituti religiosi questi istituti religiosi lasciamo perdere le chiese quelli rientrano ai beni artistici e lo stato ci smena altri soldi ma per altri motivi la maggior parte di questi cosiddetti istituti religiosi esenti da Imu sono strutture alberghiere a tutti gli effetti con annessa una piccola cappella un altarino a volte c'è soltanto una nicchia con una statua della Madonna di Lurdo o altra Madonna che magicamente le trasforma in luoghi di culto dunque esenti da tasse non me lo sto inventando le ho viste no 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 ecco chiaro la UE ci ha bacchettato imponendoci di riscuotere perfino gli arretrati la città totale che dovremmo ricavare corrisponderebbe a una corposa manovra finanziaria è campacavallo no? il giorno in cui gelerà l'inferno come si dice praticamente torno a ripetere perché non mi stancherò mai di dirlo che questi sono soldi pubblici ossia di tutti noi buttati via a favore di un'istituzione che scusate ma vende aria fritta e soprattutto è attestata tra le più ricche potenze mondiali la chiesa povera come sono solita dire ricordatevi di questo quando vi tireranno dietro pochi spiccioli di pensione dopo una vita di versamenti, lavoro e sacrificio quando dovrete prenotare un esame medico di cui avreste urgenza e vi daranno l'appuntamento tra un anno ecco ricordatevi di questi sprechi ce ne sono tanti altri e non è l'unico per la carità prevengo già l'obiezione ma questo proprio scusate ecco è una cosa che mi fa arrabbiare posso? poco poco però eh poco poco stavo pensando io stavo pensando mentre stavi dicendo questi numeri al cosiddetto debito pubblico che ha l'Italia nel senso che ognuno di noi alla nascita nasce già con un debito pubblico spaventoso e stavo pensando probabilmente la città anche queste cifre qua ecco probabilmente la città del Vaticano questi problemi diciamo di buchi nello Stato non penso che li avrà mai no eventualmente la città del Vaticano qualche buco nelle sue casse per dei vescovi o dei cardinali con i dentini troppo lunghi eh no codarsi però certamente non perché qualcuno gli rapina dei soldi per finanziare no appunto appunto facciamo una chiudiamo questo grande lavoro facendo una carellata adesso sui papi sui papi sui papi sui papi più recenti dopo dopo diciamo il il discorso del Vaticano la chiesa può sconciliare diciamo esatto esatto partiamo dai è stato un papa che possiamo definire opaco soprattutto dopo Roncalli il Papa Buono Montini non bucava lo schermo non faceva simpatia al gregge e nonostante questo gli tocca continuare e concludere il Vaticano II inaugurato dal suo predecessore è il papa del fumo di Satana che da qualche fessure si è infilato in Vaticano è una sua frase no questa eh che forse fu il suo modo ehm di far sapere a qualcuno che lui sapeva cosa non si sa questioni di pedofilia questioni di pedofilia che lui in qualche modo aveva fatto finta di non vedere e che aveva aveva coperto nonostante gli fossero arrivate numerose informazioni al riguardo addirittura durante il concilio Vaticano II qualcuno inizia a far circolare un fascicolo dove si parlava di questa immonda piaga questo fascicolo viene immediatamente requisito e non se ne sa più niente anzi quando negli anni 90 gli scandali sulla pedofilia inizieranno a scoppiare le autorità ecclesiastiche cadranno dal pero completamente affermando di non averne mai sentito parlare eh diciamo che tra i pochi meriti almeno dal mio punto di vista di Polo VI c'è quello di aver appunto abolito l'indice dei libri l'index libro proibitorum e anche il bacio della pantofola è stata una delle cose che era un'antica usanza che i potenti riservavano ai pontefici come atto di sottomissione alla loro autorità però ricordiamo tra i suoi demeriti invece l'enciclica umane vite 25 luglio 1968 con la quale ha condannato senza mezzi termini la contraccezione suscitando il malcontento perfino tra le fila dei cattolici poi di Montini non c'è molto altro a dire anche il fatto che lui era visto che abbiamo citato prima era un forte sostenitore di padre Pio lui consideriamo che poi gli anni ventitresimo tutti quanti sono diventati forti sostenitori di diciamo che lui no non era Paolo Primo Giovanni Paolo Primo non era sostenitore di padre Pio forse perché è durato poco povero è durato come un gatto intangenziale cioè non poveretto mi spiace per lui anzi diciamo che con lui l'espressione ogni morte di papa ha perso completamente il significato no? allora Almino Luciani patriarca di Venezia come Roncalli eletto il 26 agosto 78 trovato morto il 28 settembre successivo pontificato durato 33 giorni e qui inizia il mistero vero o presunto della sua morte improvvisa aveva poi solo 66 anni insomma non è che fosse decrepito e quel mattino di fine settembre io me lo ricordo aver sentito la radio è stata una cosa esplode come una bomba allora accendo la radio il mattino presto e sentivo che allora si trasmetteva ancora musica musica sacra quando morivano i paesi e sento musica sacra e lo speaker che diceva in occasione della morte del papo eh? cioè no? non sapevo se ero io che non mi ero ancora svegliata o cose del genere e allora la domanda naturalmente che tutti si sono posti è morte naturale o morte provocate e soprattutto c'è sempre il cui prodest no? cioè a chi poteva giovare l'improvvisa e repentina scomparsa di Luciani ma per esempio un certo monsignor Paul Marcinkus così eh? con cui il patriarca di Venezia Luciani aveva già avuto uno scontro all'epoca dello scandalo del banco di San Marco eh? e sembra che una volta diventato papa eh Luciani si fosse prefissato di rimuoverlo dalla diciamo sua disinvolta gestione della banca vaticana Marcinkus aveva fondato una banca le Bahamas eh? nel cui consiglio di amministrazione sedevano lì Ciogelli non 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 con lì insomma no? no? Lì Ciogelli, Michele Sindona e Roberto Calvi che poi poveretto entrambi questi faranno una brutta fine eh in ogni caso c'è chi dice che Albino Luciani non aveva una salute di ferro da ragazzo aveva sofferto di una grave tubercolosi e nella sua famiglia c'era già stato un altro caso di morte improvvisa per problemi cardiaci che so eh comunque ancora oggi c'è chi giura che Luciani fosse assinato e diciamo che non ci sarebbe da stupirsi io non so se sia vero o non sia vero però dato l'ambientino in cui si muoveva non ci sarebbe da stupirsi e veniamo subito Giovanni Paolo II e cosa si può dire di Wojtyla? non si può dire non si può dire diciamo che ci sarebbe da fare un'intera puntata su Wojtyla ci sarà ne parleremo della serie nella prima dei santi perché è santo peggio per lui eh sì fatti gli tocca purtroppo gli tocca allora prova a sintetizzare così viene letto il 16 ottobre 78 muore il 2 aprile 2005 dopo un pontificato durato quasi 27 anni e soprattutto una lunga malattia che aveva ridotto abbastanza a una larva molti ricorderanno le ultime immagini no? di Wojtyla durante il suo lungo pontificato prendo così a caso delle cosette avalla gli sporchi traffici di Marcinkus copre schiere di pedofili protegge o diciamo così fa l'ognorri meglio dire sui responsabili sul caso Orlandi fa proprio l'ognorri no? sul caso si prende anche un po' per il fondelli la famiglia ma non importa eh favorisce numerose psicosette tra i quali la più importante è l'opus Dei anche qui c'è tutta una storia che racconteremo poi nella serie e anche per esempio i legionari di Cristo combatte la teologia della liberazione in Sud America contribuendo in qualche modo all'assassinio di Monsignor Romero strizza l'occhio alle peggiori dittature mondiali come quella di Pinochet diranno sono celebri quelle fotografie no? soprattutto quella sul balcone qualcuno dirà qualcuno dei presenti dirà che il Papa era stato preso alla sprovvista sì certo inoltre è stato un forsennato fabbricatore di santi 3.000 e non mi ricordo più quanti sono e soprattutto ha elevato alla gloria degli altari numerosi personaggi ambigui tra i quali sono solo tre che cito José Maria scrive De Balaguer cioè il fondatore dell'Opus Dei e i due compagni di merende di Pietrelcina e di Calcutta per esempio quando muore durante il suo funerale la folla grida santo subito e questa e ci sono le testimonianze in merito è stata una sceneggiata orchestrata da quei movimenti settari che avevano che non ci sono solo quei due lì ce ne sono di più che avevano tratto vantaggi dalla sua protezione e di fatto diviene santo a tempo di record confermando una volta di più la triste predisposizione della Chiesa a canonizzare i criminali e anche stato il Papa di Fatima cosiddetto perché sfuggito all'attentato del 13 maggio 1981 ne approfitta per mettere in piedi il teatrino che avrebbe consentito alla Chiesa di liberarsi finalmente da quella patata bollente che era il terzo segreto e lo fa in puro stile ecclesiastico cioè attraverso un clamoroso falso riconosciuto come tale perfino da numerosi intellettuali cattolici e poi il resto lo diremo prossimamente a tempo debito nella sua puntata e chiuderemo tutti questi punti ecco quantomeno io vorrei solo sottolineare ai malpensanti che si potrebbero offendere il discorso che abbiamo citato che hai citato di padre Pio e di Maria Tessi Calcutta che è abbastanza chiara e pubblica ne hanno parlato anche persone molto più importanti di noi come ad esempio posso ricitare Alessandro Barbero come per il fatto di madre Teresa quindi non è che noi ce le stiamo inventando nel caso di padre Pio lo ha citato anche a parte lo stesso Agostino Gemelli ma anche il CICAP quindi continuiamo a dire elementi molto grossi quindi non siamo noi che ci stiamo inventando la cosa stiamo solo riportando alla luce delle cose sono già state citate quindi attenzione per i malpensati con madre Teresa di Calcutta c'è il libro di Itchens la posizione missionaria che è un titolo meraviglioso Itchens addirittura è stato convocato dalla commissione dalla congregazione per le cause dei santi per la canonizzazione di madre Teresa ha detto quello che sapeva ha portato i documenti che aveva però poi è stato ignorato perché comunque madre Teresa andava canonizzata in genere si lo decidono prima chi deve essere canonizzato poi quello che serve si trova certo si trova solo ciò che si va cercando no? sì certo i famosi miracoli passiamo sì passiamo a Benedetto XVI Benedetto XVI beh quello che ha fatto più Scalpore sono state le sue dimissioni d'accordo però diciamo che tutto il pontificato di Benedetto XVI è stato dominato dalla questione pedofilia e anche dalla questione del coro della catetale di Ratisbona diretto dal suo fratello insomma è stato senz'altro un teologo questo si l'ha riconosciuto io ho letto alcuni dei suoi libri insomma c'era una profondità di cultura chiaramente cultura cattolica questo è poco ma sicuro ci mancherebbe altro insomma no? e il punto interrogativo circa le sue curiose dimissioni su questo su questo fatto si è scatenata la fantasia di molti e a parte alcune posizioni estremiste che non condivido credo non del tutto a torto ecco e poi arriviamo all'attuale pontefice Francesco I che viene sempre citato solo come Papa Francesco perché uno ce n'è quindi ce ne sono stati anche lì la scelta del nome è stato infatti se le dimissioni di Ratzinger che erano di stato scalpore l'elezione di Bergoglio ha fatto il resto anche nella sottoscurata intanto parlo di me perché ho assistito a questi fatti quindi ci sono anche le mie impressioni perché ho subito pensato una cosa prima che era la prima volta che un gesuita saliva al soglio pontificio e poi la seconda conoscendo un pochino l'ambient che un gesuita ingegno e pacioccona aveva ancora da nascere quindi tutta quella sceneggiata del buonasera del no anzi mi ha fatto drizzare le orecchie veramente e anche lui tra le tante patate bollenti che si è trovato così tra le mani c'è sempre c'è stata la spinosa questione mai sopita della pedofilia che il Papa ha affrontato un po' la gesuita diciamo lasciando così lasciando correre trattando l'argomento in modo parziale a dispetto di dichiarazioni fatte perché aveva indetto addirittura un congresso per parlare di pedofilia dove non si è venuto c'era di niente naturalmente e poi pare che abbia favorito invece dei suoi amici personali sempre sempre implicati in casi di pedofilia poi c'è stato Vatilix cioè la fuga di notizie di documenti della Santa Sede insomma ce ne sono stati tanti c'è stato di nuovo è venuto di nuovo a galla allo Ior sotto il pontificato di Francesco sempre nell'ambito di Vatilix insomma c'è stato abbastanza e poi c'è un'altra notizia che riguarda Bergoglio che a mio avviso è abbastanza preoccupante alla fine del 2020 il Papa ha annunciato la firma di un accordo con i Rothschild la fondazione Rockefeller e le grandi banche mondiali al fine di realizzare una alleanza globale il cui scopo sarebbe quello cioè un'alleanza globale con la creazione di un consiglio economico il cui scopo sarebbe quello di ridistribuire la ricchezza nel mondo e allora così a me che sono sempre la solita malpensante è venuta spontanea una domanda con questo chiudo da quando i Rothschild i Rockefeller e le grandi banche mondiali hanno a cuore il benessere dell'umanità e anche da quando c'è la holding chiesa cattolica apostolica romana rispondete voi ma loro hanno parlato di ridistribuzione della ricchezza non hanno parlato delle persone povere no no ho proprio parlato di benessere dell'umanità dipende da quale parte dell'umanità questo è quanto allora prima che chiudiamo e chiude Ilaria la cosa volevo dire due risposte a dei commenti che per me sono stati interessanti ma penso che sono più indicati verso singolarmente che non è un punto di vista che noi abbiamo la domanda più interessante è che ci chiedono non so se per giocare o per scherzare anche il fatto di che che tipo di fede o che cosa noi crediamo ora io posso parlare per me in parte poi per le mie due persone che collaborano diranno se sono d'accordo al 100% o non al 100% con me per la persona poi per Laura risponderà Laura io non mi arrogo il diritto allora per quello che riguarda noi noi crediamo fondamentalmente in una cosa principale cioè nell'essere umano non esiste una distinzione che possa essere di religione o altro tranne il fatto che noi abitiamo questo pianeta uso le parole di Kennedy che noi siamo esseri viventi su questa palla colorata e dovremmo essere tutti quanti uniti dallo stesso obiettivo allo stesso fine per il miglioramento e per star bene noi la ricerca del divino è più che altro noi la pensiamo come qualche cosa che è una paura che ha l'essere umano di pensare che dopo la morte non c'è nulla quindi si sente fallito quindi deve cercare questo divino noi pensiamo più noi almeno qui parliamo come dormienti di Efeso che cerchiamo siamo più legati a un discorso dell'essere umano ora le mie colleghe mi diranno mi sconfermeranno non mi confermeranno se la pensano io volevo solo aggiungere una cosa come ho detto anche nella presentazione diciamo di questo nuovo 2024 a noi manca un'identità di razza noi siamo talmente impegnati a farci guerre in nome di un dio a distruggerci per un nome di un dio anche per una convinzione politica che alla fine non ci rendiamo conto che siamo comunque un'unica razza al di là di colore di pelle distinzione politica religiosa cose del genere io penso che la religione prima di tutto sia un percorso personale non esiste nessuno che mi debba dire in che cosa devo credere come non è un'istituzione no non è un'istituzione è un viaggio puramente personale ognuno deve deve cercare una divinità non la voglio chiamare dio una divinità alla sua maniera in questo senso e nessuno deve osare discutere su quello che è giusto o non è giusto che questa persona pensi quindi nessuno mi deve venire a dire o deve andare a dire a un'altra persona se è giusto o non è giusto chiedere il credere in una determinata divinità o se questa cosa può essere vera ho sbagliato a cose del genere anche perché il mio personale pensiero è che il concetto di divinità sia talmente ancora lontano per questo tipo di umanità visto che appunto siamo impegnati a farci delle guerre in nome di tutt'altra cosa insomma quindi di tante cose quindi ci manca un'identità quindi è inutile che andiamo a farci diciamo questi tipi di domande insomma quindi questo è quello che penso io Milaria poi ti lascio la parola perché serve importante del gruppo vai Milaria la parola pensi no vabbè condivido anch'io che ovviamente il nostro interesse principale è l'essere umano cioè come diciamo trovare una sorta di divinità già in noi stessi diciamolo così e cercare di migliorarci migliorarci vivere bene stare bene in ogni modo quindi questo sicuramente è la base poi come diceva Massimiliano sicuramente ogni essere umano per sconfiggere quelle che sono le paure fondamentali cioè e trovare e cercare di trovare delle risposte a chi siamo dove andiamo cosa facciamo cosa c'è dopo la morte cerca in qualche modo delle risposte ok e ognuno ha diritto di cercarle dove vuole queste risposte che possono essere in una fede in una filosofia eccetera sicuramente credo che sia innato perché qualche cosa che magari è più grande di noi presumo ci possa essere non so che cosa personalmente e nel momento in cui magari uno lo troverà dirà è quello eccetera però sì condivido condivido pienamente comunque sia quello che ha detto Massimiliano sia quello che ha detto Serena è fondamentale che riconosciamo che siamo esseri umani e che dobbiamo cercare di vivere al meglio questa vita su questa terra poi quello che sarà quello che sarà lo scopriremo solo morendo io non sto morendo in questo caso è quello lo scopriamo solo morendo poi dopo una speranza penso sia naturale cioè tutti quanti speriamo che cioè è il desiderio dell'essere umano di di persistere cioè in qualche modo sì cioè che tutto quello che noi viviamo non sia vano comunque esatto che dopo la morte ci sia qualche cosa che resta ma è comunque una manifestazione dell'ego abbiamo la presunzione di voler continuare no? sì 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 a me non me ne frega niente una volta che no? poi c'è una parola che io non non riesco a usare ed è credere se non è il senso di ritengo suppongo no? nella lingua italiana ecco quando scrivo io credo che non vuol dire che ho fede in quella cosa lì nel credere come fede cioè non mi appartiene e dovessi dire a questo punto arrivata la mia veneranda età tra un mese poco più di un mese con più 72 anni quindi no? sinceramente non me ne frega più molto da dove veniamo dove andiamo eccetera eccetera io sarò già molto contenta così perché chiaramente l'ego è sempre lì che fa capolino se le mie molecole i miei atomi contribuiranno alla formazione di altra vita per me va benissimo e poi appunto siccome credere come la domanda presuppone no? che si debba credere in un dopo in un futuro di cosa no? torno a dire non mi appartiene e poi Dio Dio è un'espressione che anche quella non mi appartiene posso parlare di divino ma nella sua accezione etimologica che vuol dire luminoso quindi frequenze energetiche sono il divino è qua e qui non è l'asciugo altrove no? quindi è proprio una categoria che non mi appartiene ok chiudo il discorso così che lascio una parola finalmente a Ilaria che ci saluta allora noi vi ringraziamo intanto per queste puntate solo una cosa vi voglio dire che tutto quello che noi abbiamo detto in queste puntate che voi potete vedere tutto quanto sono tutti dati storici cioè sono dati storici non sono nostre conclusioni non sono teorie se voi andate a cercare sulle varie enciclopedie sia online che non online quindi possiamo parlare di treccani abbiamo detto anche catopedia ultimamente catopedia perché è una fonte cattolica quindi vado a cercare lì il martì abbiamo visto tutto il discorso del martirologio tanti e qui quindi abbiamo affrontato tematiche che erano tutte quante visibili e trovabili anche parte di chiunque l'obiettivo dei dormimenti è solo quello di accendere questa scintilla e dire ma fammi cercare quello che dicono questi qua magari forse è vero a noi già ci va bene questo e la nostra non è la verità assoluta la nostra è la nostra verità poi ognuno deve costruirsi la sua non deve subire la violenza che viene dall'alto detto questo Ilaria a te la la giustura che tanto già passano i titoli di coda sotto allora innanzitutto questa sera appunto come abbiamo detto all'inizio puntata si conclude questa serie insomma che ci ha accompagnato per più di un anno ti volevo un brindisi però è vero non l'abbiamo portato niente un brindisi un brindisi un brindisi un brindisi ad ogni modo si conclude insomma questa questa serie così lunga densa pregno di argomenti e di informazioni che per chi non l'ha vista magari vi invito a rivederla tanto le puntate ci sono tutte sul sul nostro canale e come si suol dire porto un pappa se ne fa un altro finita una serie quindi noi siamo prontissimi e adesso ancora non abbiamo la data perché insomma ci sarà magari un piccolo break appena appena un piccolo break eh piccolo piccolo perché piccolo 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 break e siamo ci stiamo preparando per partire con una nuova serie sempre con Laura che ci al solito ci sopporta e ci supporta e ci sopporta e su i santi sono già qualche anticipazione abbiamo data questa sera e quindi tratteremo in modo eh bello approfondito i santi il lato scuro della chiesa spiegheremo insomma un pochettino vai ecco io sto raccogliendo le domande di tutte le serie e lo dico per qualcuno che ha chiesto l'opinione su un libro faremo una puntata quindi la prossima puntata ufficialmente sarà una puntata di decantazione in cui noi faremo le domande per avere domande serie e in tema faremo delle domande a Laura di cosa ne pensa o cosa affronteremo certe cose in cui potremmo avere delle risposte quindi se volete fate delle domande in tema perché se no non passano la potete dire la giustamente il rapporto quindi la ricetta della bagna cauda non esatto non è non è o la ricetta della fonduta a noi non ci interessa diciamo ovviamente appunto si sono le domande inerenti alle varie puntate della serie quindi comunque legate alla storia della chiesa noi dai commenti da chi ci ha fatto domande già magari qualche cosa abbiamo estrapolato e quindi se insomma se volete porci se volete porre a Laura altre domande scrivetelo nei commenti fatecelo sapere in modo tale che insomma prepareremo questa puntata di stacco prima di riprendere poi dopo alla grande con la nuova serie esatto che dire siamo arrivati a questa puntata siamo arrivati di coda come si suol dire esatto è stata bella interessante bella lunga è stato un bel viaggio che vi sia che vi sia piaciuta che vi abbia stimolato che vi abbia fatto pensare che vi abbia fatto venire in mente qualche qualche domanda è suscitato qualche curiosità esatto non solo da chiedere agli altri ma magari anche verso voi stessi perché l'importante quello che noi diciamo sempre è farsi non smettere mai di farsi domande grazie a tutti grazie a tutti grazie soprattutto a Laura a proposito se non siete iscritti scrivetevi attivate la notifica così saprete quando arrivano le nuove puntate ciao 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 a tutti ciao ciao